Musica Sarà il sindaco di Genova Marco Bucci il commissario straordinario per la ricostruzione la nomina annunciata dal presidente del consiglio Conte in visita ad Assisi giornata di sciopero per i lavoratori Astore di Casarza Ligure i 44 dipendenti in presidio davanti ai cancelli chiedono all'azienda di fermare il trasferimento a Casella forte sostegno delle istituzioni scoperte dalla guardia di finanza di Liga Trigoso 25 case vacanza totalmente nero denunciate 16 persone tra Sessi Levante e Moneglia erano pubblicizzate su internet ma sconosciute al fisco Il parco dell'Aveto Sito Pilota del programma europeo Smart Destination 12.000 euro destinati a un intervento all'Abbazia di Borzone l'obiettivo valorizzare la proposta turistica dell'entroterra Terminati i lavori alla canonica di Campeglia Castiglione Chiavarese realizzati due alloggi che ospiteranno persone del territorio Grande segno di apertura e generosità ha detto il Vescovo all'inaugurazione Chiavare ospiterà sabato la sesta tappa del Giro d'Italian Bike dedicata quest'anno a Don Nandonegri Gli atleti viaggeranno ad alta velocità nel cuore della città che sarà chiusa al traffico Buonasera a tutti gentili telespettatori benvenuti nei nostri studi L'avete sentito dai titoli del nostro giornale Sarà Marco Bucci il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi A sei giorni dalla pubblicazione del decreto Genova e a 51 dal crollo del viadotto Si completa così l'ultimo tassello mancante per fare in modo che il capoluogo della Liguria Possa ricostruire al più presto la viabilità e il tessuto economico e sociale Spezzato dalla tragedia del 14 agosto Vediamo Sono davvero lieto di annunciare che è pronto a Roma il decreto che firmerò nel pomeriggio Che nominerà il nuovo commissario straordinario nella figura che abbiamo ritenuto più idonea Il sindaco di Genova Marco Bucci Arriva dall'oggiato della Basilica di San Francesco d'Assisi l'annuncio del premier Giuseppe Conte Che conferma la nomina di Marco Bucci a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi Messa da parte l'ipotesi di Claudio Gemme circolata fino a pochi giorni fa e accantonata per divergenze All'interno della maggioranza va dunque al sindaco di Genova e della città metropolitana Il compito di ricucire al più presto e nel miglior modo possibile l'infrastruttura viaria del capoluogo Ligure A 51 giorni dal crollo del Morandi e a sei dall'entrata in vigore del decreto Genova Va a posto l'ultimo tassello mancante per un lavoro che si preannuncia comunque non facile A partire dalle modifiche chieste al decreto governativo per renderlo più efficace Richieste già avanzate nei giorni scorsi da Comune e Regione Liguria E da Roma dove si trovava per impegni istituzionali sono arrivate le congratulazioni a Bucci Da parte del Presidente della Regione Liguria Giovanni Totti Mi sembra la scelta più sensata Alle istituzioni della città resta la gestione del territorio come è giusto che fosse Il commissario alla ricostruzione sarà il Comune Il commissario all'emergenza resta la Regione È una scelta fatta d'accordo con il Presidente del Consiglio Conte Con cui abbiamo avuto in questi giorni una serrata discussione Buon lavoro al commissario Bucci Stiamo chiedendo, abbiamo chiesto e lo chiederà il commissario stesso Alcune modifiche al decreto che andrà in conversione a partire dalla prossima settimana Ci sono molte cose che come abbiamo detto non ci convincono in termini di efficacia e di rapidità E anche di risorse per la città, visto il confronto che abbiamo avuto con tutte le parti sociali ed economiche del territorio Le stiamo portando al Governo, mi auguro che possano essere recepite Gli enti locali potranno utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione per finanziare investimenti relativamente al 2018 E questa la novità contenuta nella circolare diffusa ieri dalla Ragioneria Generale dello Stato E indirizzata a comuni, città metropolitana e provincia Si tratta, secondo Anci Liguria, di una svolta epocale per le amministrazioni locali Che dopo 20 anni potranno utilizzare le risorse attive dei propri bilanci per gli investimenti Lo sblocco era atteso dopo le due sentenze della Corte Costituzionale Che avevano colpito le regole del pareggio di bilancio sui conti di comuni, regioni, province e città metropolitane Nella circolare che recepisce le sentenze si legge che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza E non può essere oggetto di prelievo forzoso attraverso i vincoli del pareggio di bilancio Questa circolare premia i comuni virtuosi che negli anni passati hanno amministrato con equilibrio e parsimonia Commenta il coordinatore della Commissione Finanze Locale Anci Liguria Gianluca Buccilli E riafferma il principio secondo il quale l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente locale che lo ha realizzato I temi del lavoro adesso è andata in scena questa mattina Lo sciopro dei lavoratori di Astor e i 44 dipendenti che salgono a 55 considerando quelli proprio dell'indotto Hanno presidato i cancelli della fabbrica a Casarza Ligure per chiedere all'azienda di tornare sui propri passi E fermare un trasferimento a Casella nell'introterra genovese Che diventerebbe tra l'altro insostenibile per molte famiglie della Val Petronio A dare sostegno alla propria testa dei lavoratori anche i rappresentanti dei comuni delle comprensorie E' iniziato dal turno della notte per proseguire per tutta la giornata lo sciopro dei lavoratori della Astor e di Casarza Ligure 44 dipendenti in forza allo stabilimento della Val Petronio che insieme a quelli dell'indotto hanno presidiato i cancelli della fabbrica Per chiedere ancora una volta all'azienda di fermare un trasferimento a Casella Che per la maggior parte di loro è insostenibile ed equivale ad un licenziamento indiretto Noi non ci stiamo, noi vogliamo restare qua sul territorio, qui abbiamo i nostri affetti, i nostri cari, i nostri figli che vanno a scuola E vogliamo restare qua sul territorio anche perché un trasferimento comprometterebbe completamente la nostra vita personale, la nostra vita privata Sarebbe complicatissimo la gestione di tutto questo E' un trasferimento che alla luce anche dei risultati dell'azienda risulta inspiegabile, comunque non è giustificato? Certo che sì perché i risultati sono ottimi, questa azienda dà buoni risultati in termini di fatturato, in termini di produttività e di qualità e servizio al cliente Quindi per noi non c'è una motivazione concreta a questo trasferimento se non che probabilmente una motivazione economica del gruppo, della dirigenza A portare il sostegno delle istituzioni e alla protesta dei lavoratori, i rappresentanti dei comuni della Val Petronio Un'avvertenza con la diastore che è diventata una battaglia di tutto il comprensorio ma non solo E' un'assurdità doverla smontare e non se ne capisce il motivo, quindi noi prosegueremo in questa battaglia Adesso abbiamo alzato il tiro insieme ai sindacati e ai dipendenti Abbiamo coinvolto parlamentari, abbiamo coinvolto i consigli regionali, abbiamo coinvolto anche il ministero del lavoro Il quale ci ha già risposto e adesso nei prossimi giorni poi convocheremo un consiglio comunale congiunto E lì poi faremo un documento di solidarietà per la fabbrica e come vedete siamo qua adesso per la strada Dov'è il nostro territorio e dove è giusto che noi siamo Un milione e duecentomila euro per sostenere i comuni liguri nel migliorare l'offerta turistica e la riqualificazione ambientale e paesaggistica Sono stati stanziati attraverso un bando dalla giunta regionale Dieci comuni beneficiari che sono stati selezionati da un'apposita commissione Per quanto riguarda il Tiguglio sono Moneglia e Varese Ligure Il bando prevede il finanziamento di tre tipologie di interventi Aree e percorsi pedonali, giardini, parchi urbani, percorsi ciclabili ed escursionistici Passiamo alla cronaca Nel corso di un controllo contro l'abusivismo nel settore delle locazioni turistiche La Guardia di Finanza ha scoperto 17 appartamenti ad uso turistico e 8 case vacanza Completamente sconosciuta al fisco I finanzieri hanno scandagliato le strutture ricettive deriva Tregoso, Sestre Levante e Moneglia Scoprendo numerosi immobili affittati in nero Vediamo il servizio che abbiamo preparato La maggioranza dei casi era nel comodo di Moneglia Alcune proprio sul lungomare, altre proprio molto molto Su lento terra, sulle prime alture Anche alcune bellissime villette con una stupenda vista mare E qualche caso anche nel lungomare di Sestri Erano ben pubblicizzate sui diversi siti internet di prenotazioni online Ma totalmente sconosciuti al fisco e agli uffici comunali a cui spetta la registrazione 17 gli appartamenti ad uso turistico e 8 le case vacanze Totalmente in nero scoperti dagli uomini della brigata della Guardia di Finanza di Riva Tregoso Tra Sestre Levante e Moneglia Un'attività di contrasto all'abusivismo che si è sviluppato nel corso dei mesi estivi E che ha visto controlli diretti anche sul campo Per verificare l'effettiva presenza di turisti all'interno di queste strutture Che venivano affittate per cifre importanti Comprese tra i 1000 e i 2000 euro a settimana Un riscontro tra i dati forniti su questi siti e i vari comuni interessati Ci ha permesso di verificare l'assenza totale di denunce o di comunicazioni al comune E quindi l'assenza totale anche delle comunicazioni dell'APS che vanno fatte in questi casi Quanti soggetti sono stati denunciati? Sono 16 persone denunciate sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale 25 sono stati i casi di abitazioni, alloggi o di case vacanze completamente irregolari Questi appartamenti erano affittati a famiglie, turisti che passavano sul territorio del Tiguglio Un breve periodo di vacanza Quali sono i risvolti nei loro confronti? I clienti non hanno nessuna sanzione I clienti hanno regolarmente affittato anche spesso tramite dei siti Quindi i clienti, anzi, li abbiamo spesso intervistati all'uscita degli appartamenti Durante questi controlli per dimostrare che gli appartamenti fossero in qualche modo occupati E in tanti hanno fornito anche gli importi, le dinamiche come avvenivano le promotazioni Quindi i clienti assolutamente non sono coinvolti Un'attività che prosegue, ci sono ancora controlli in corso? Sì, abbiamo ancora qualche altro controllo che stiamo facendo Tra Sestri e Vantemonia, che sono i comuni maggiormente coinvolti Nel primo pomeriggio di oggi, alle 13.30 circa, i vigili del fuoco di Rapallo Sono intervenuti a Chiavari per spegnere un incendio divampato in un appartamento in corso Buenos Aires Le fiamme hanno avuto origine dalla cucina dell'abitazione Le cause sono ancora in corso di accertamento Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi Con l'elicottero Drago Il locale ha subito notevoli danni risultando inagibile Anche l'appartamento sovrastante è temporaneamente interdetto Fino alla verifica strutturale da parte dei tecnici In appoggio alla squadra è intervenuto anche sul porto di Chiavari Con il carro autoprotettori da Genova A Santa Margherita Ligure tre giovani, due minorenni genovesi e un diciottenne di Milano Sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di ascisce suddivisi in dosi Sono stati denunciati dai carabinieri che nell'ambito dello stesso servizio Hanno anche segnalato due ragazzi maggiorenni residenti nel Levante Ligure Trovati in possesso di circa 6 grammi di marijuana per uso personale La regione Liguria ha inserito il Parco dell'Aveto e il Parco dell'Antola Nell'ambito di un progetto europeo di cooperazione territoriale Volto a valorizzare dal punto di vista turistico l'entroterra Il budget è di 304 mila euro di cui 60 mila andranno al Parco dell'Antola Per i lavori di rifacimento della cupola dell'osservatorio 12 mila andranno al Parco dell'Aveto per un intervento all'Abbazia di Borzone Qui si è svolta la premiazione ufficiale del progetto Noi eravamo presenti Il progetto Smart Destination nasce dalla collaborazione tra Regione Toscana Che ne è capofila, Regione Liguria, Regione Sardegna e Regione Paca in Francia È un programma europeo di cooperazione territoriale I cui obiettivi sono stati illustrati nel corso di un workshop all'Abbazia di Borzone L'obiettivo è quello di rendere più affettibili, più smart le destinazioni turistiche Mettere insieme tutte le app, quindi la Liguria, mettere a disposizione la sua app, la mia Liguria Per promuovere i propri territori La Regione Liguria ha scelto i due territori, il Parco dell'Antola e il Parco dell'Aveto Come siti pilota da promuovere e per valorizzare le bellezze e la natura dell'entroterra La valorizzazione di peculiarità del territorio come quello della Val Daveto Passerà anche attraverso gli strumenti digitali per il turismo disponibili a livello locale Attraverso questo progetto, quindi noi vogliamo, vorremmo che la tecnologia aiutasse a promuovere questi luoghi A farli conoscere e poi quindi ovviamente a valorizzarli turisticamente Portare turismo nelle nostre vallate non significa solamente far godere di questi paesaggi Di queste emergenze storiche al turista Ma significa anche far lavorare in tutto un modo produttivo che sta andando avanti con grandi difficoltà Il punto chiave del progetto è lavorare in squadra In modo da proporre un'offerta allettante per il visitatore e sostenibile per il territorio È necessario partire dalla costruzione dell'offerta Cioè è necessario aggregare gli operatori dell'offerta di una destinazione E farli lavorare in squadra Perché solo così la destinazione acquista una sua dimensione E riesce a presentarsi compiutamente sul palcoscenico globale Nel quale dobbiamo confrontarci e proporre le nostre opzioni Mercoledì prossimo 10 ottobre alle 11 e un quarto È convocata presso la città metropolitana Genova La commissione consigliare di pianificazione territoriale e sviluppo strategico Per l'esame e la discussione della proposta di collocare il depuratore del Tiguglio centrale Nell'area dell'Ido alla colmata di Chiavari Simone Ferrero è il relatore della proposta che verrà esaminata e quindi discussa Ai blocchi di partenza il quinto lotto di lavori che interesseranno via Landea a Rapallo La strada di Cornice nella zona collinare della città La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per consolidare la sede stradale del tratto Da via della Fondega che prosegue per 150 metri circa È stata scelta una soluzione non invasiva che prevede l'ampliamento della carreggiata tramite una soletta sbalzo a valle Soluzione che non comporta la realizzazione di altre opere murarie Per quanto riguarda i sottoservizi saranno adeguati i tombini presenti sul piano viario Verranno sistemati anche il guarderade al momento assenti L'opera è stata programmata nel 2006 ma spiega l'assessore Arduino Maini Per varie ragioni, inclusi i vincoli imposti dal patto di stabilità, è rimasta finora interrotta Oggi è il 4 di ottobre e si festeggia San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia Questo pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Chiavari è stato celebrato il Santo Con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Diocesano Durante l'Omelia Monsignor Tanasini ha ricordato l'importanza dell'esempio di Francesco Uomo prima che santo, capace di affidare la propria vita a Cristo e vivere spinto dall'amore di Dio Bisogna avere un cuore disponibile ed accogliente perché non incontreremo mai Cristo se abbiamo un cuore indurito e chiuso L'attenzione non solo a coloro che sono poveri materialmente ma al fratello e alla sorella in difficoltà Ha concluso il Vescovo con l'esortazione a lasciarci ispirare dal percorso di Francesco e a farci cambiare la vita dal Vangelo Festa di Nostra Signora del Rosario a Santa Giulia di Lavagna Questa sera alle 20.30 serata a Mariana con Rosario meditato Sabato alle 20.45 il concerto del coro Canticum Novum di Rapallo Domani la messa cantata alle ore 10, alle ore 16 i Vespri e quindi la processione Al termine si trarà un momento di festa e in questa occasione la comunità saluterà e ringrazierà le suore della congregazione di Don Daste che hanno lasciato l'asilo parrocchiale Sono giunti al termine lavori di completamento alla chiesa e alla casa canonica di Campegli nelle comune di Castiglione Chiavarese Grande festa dunque per la piccola comunità intitolata i Santi Rocco e Gaetano Alla cerimonia di inaugurazione era presente il Vescovo che ha impartito la benedizione dei nuovi locali Vediamo Campegli riparte dall'accoglienza Dopo anni di attesa la comunità ritrova la canonica completamente rinnovata con due alloggi da affittare si spera a persone del territorio Un percorso iniziato nel 2002 con piccoli lavori alla chiesa e alla copertura della canonica In questi ultimi anni abbiamo completato tutti i lavori sulla chiesa e anche un lavoro interno nella canonica dove sono stati ricavati un paio di alloggi E poter fare in modo che questa parrocchia potesse accogliere anche persone che vengono dall'esterno E poter in qualche modo anche avere un introito utile per poter finanziare anche manutenzioni future O anche finanziare comunque questo intervento che è stato abbastanza corposo I fondi sono arrivati dalla parrocchia, dall'otto per mille, dalla sovrintendenza Ma soprattutto grazie alla generosità delle persone di Campegli A sottolinearlo il Vescovo prima di impartire la benedizione E quindi non posso non fare i complimenti per questo impegno che non è da tutti Riferendosi ai due alloggi da affittare Monsignor Tanasini ha spiegato che è segno di un grande spirito di accoglienza Che contraddistingue una comunità aperta e generosa E' proprio come si suole dire una luce accesa Sapere che lì c'è qualcuno per le persone è una gioia grande Si raccoglie il frutto di tanto sacrificio, di tanto impegno I fedeli di Campegli non hanno dato una mano solo in termini economici C'è anche chi ha contribuito realizzando piccoli lavoretti Ecco perché l'inaugurazione di domenica è stata motivo di festa e di orgoglio per il paese Per aiutare un po' la parrocchia perché la parrocchia è povera Poi è un paese piccolo, la gente è anziana E allora quelli un po' più giovani si siamo dati da fare Abbiamo aiutato un po' con quello che potevamo La società operaia cattolica Nostra Signora dell'Orto di Chiaveri Compie 135 anni di vita e domenica prossima nella cattedrale di Chiaveri Il prevosto Don Gian Lorenzo Borzini pesederà la Santa Messa di ringraziamento Al termine i partecipanti si trasferiranno allo società economica dove alle 11.15 avrà inizio la cerimonia celebrativa col saluto del Presidente Stefano Franceschini e dell'autorità cui farà seguito una relazione sul sodalizio da parte del socio e giornalista Fabio Guidoni La giornata di festa proseguirà con un incontro conviviale dei soci e delle autorità al ristorante Monterosa Apriamo ora la consuetta finestra sull'Arci Diocesi di Genova La linea va alla redazione del Cittadino per conoscerli appuntamenti più significativi in programma Vediamo Benvenuti nella redazione del Cittadino Il prossimo mercoledì 10 ottobre ricorre l'anniversario dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale di San Lorenzo In occasione di questa particolare ricorrenza nel pomeriggio alle 17 è in programma un momento di riflessione a cura di Monsignor Marino Poggi sul tema la dedicazione della Cattedrale di San Lorenzo a Genova e alle 18 la celebrazione solenne dei Vespri Capitolari presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco Ancora, domenica 21 ottobre alle 15.30 la Messa per la chiusura del Giubileo presieduta dal Cardinale con la partecipazione dei Vescovi Liguri È in corso a Roma la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale Fra i padri sinodali anche Monsignor Nicolò Anselmi Vescovo Ausiliare eletto dalla Conferenza Episcopale Italiana a partecipare E genovese è anche il gesuita padre Giacomo Costa che è uno dei due sottosegretari al Sinodo insieme al salesiano padre Rossano Sala E infine una buona notizia È stata inaugurata da Monsignor Nicolò Anselmi alla presenza di Pietro Picciocchi assessore comunale al bilancio la bottega Mani d'Oro ubicata in via Canneto il Curto e realizzata dagli ospiti dell'opera Segno di Posta Vecchia Nel piccolo negozio si possono trovare degli oggetti di recupero ottenuti da materiali di riciclo ma anche lavori di bricolaggio e piccoli manufatti col tempo si avvierà anche la realizzazione di restauro di mobili la bottega viene portata avanti tutti i giorni dagli ospiti dell'opera Segno di Posta Vecchia un'accoglienza notturna di secondo livello per persone senza fissa dimora Bene, questa è l'ultima notizia Ora la linea può tornare a Chiavari Arrivederci Bene, torniamo in studio Il Banco di Solidarietà di Rapallo effettuerà sabato prossimo una raccolta straordinaria di generi alimentari nei supermercati Ecom e Carrefour di Via Mamelia Rapallo Il banco opera in città da oltre 20 anni con i suoi 70 volontari consegna ogni mese un aiuto alimentare a più di 250 persone circa 90 famiglie bisognose di Rapallo e zone limitrofe Chi desidera contribuire a questa raccolta può recarsi a fare la spesa nei due punti vendita e lasciare uno o più prodotti ai volontari del banco Tutto pronto per la sesta tappa del Giro d'Italia di Handbike che si svolgerà a Chiavari questo sabato 6 ottobre Oltre 70 gli atleti che gareggeranno per le vie della città l'insegna dello sport e anche della solidarietà E proprio per questo l'edizione di quest'anno coincide con il primo Memorial Don Nando Negri Quali sono le novità di quest'anno della manifestazione sportiva? La manifestazione sportiva torna a Chiavari dopo 5 anni L'ultima volta si è svolta nel 2013 L'anno scorso era stata annullata per motivi di concomitanza con le elezioni amministrative Gli altri cambiamenti riguardano il servizio di raccolta differenziata porta a porta che verranno sospesi come da ordinanza durante la manifestazione e verrà effettuato un servizio supplettivo al termine della manifestazione Invito tutti quindi a osservare l'ordinanza anche se prima dell'inizio della gara faremo un giro da parte degli operatori ecologici per togliere tutti coloro che non conoscono l'ordinanza Quanto è sentita questa manifestazione sportiva? Ma è sentita tantissimo Noi siamo estremamente felici che dopo 5 anni la gara di Endbiker ritorni a Chiavari Poi sottolineo ancora di più che la cosa che mi ha fatto estremamente piacere è riuscire a portare questa gara nazionale all'interno del nostro centro storico Meraviglioso visto che sono proprio l'assessore alla promozione della città ci tengo in maniera particolare Quale sarà lo spirito che animerà questa manifestazione sportiva? E lo spirito con cui noi organizzatori è quello sicuramente di portare una bellissima manifestazione nel nostro territorio soprattutto quest'anno proprio nel centro di Chiavari in zone praticamente quasi mai battute da manifestazioni sportive in particolare il Carugio, via Vittorio a Veneto che sono un po' dei simboli di Chiavari che chi parteciperà potrà ammirare e percorrere anche in un modo un po' particolare perché non capita neanche a noi chiavaresi di percorrere ad alta velocità senza le persone in mezzo il Carugio quindi è un'amministrazione che ha uno scopo sicuramente sportivo ma anche sociale perché si vedranno persone con disabilità diverse cimentarsi in uno sport competitivo quindi è anche un bel messaggio che si vuol dare ai cittadini Per consentire lo svolgimento della competizione paraciclistica valevole come sesta tappa del Giro d'Italia Handbike 2018 che si disputerà appunto sabato 6 ottobre a Chiavari è stata messa un'ordinanza contenente alcune modifiche al traffico sabato dalle ore 8 fino al termine della manifestazione è vietata la sosta con rimozione forzata dei mezzi in via Vittorio Veneto, piazza Matteotti, via Martire della Liberazione Corso Genova, corso Montevideo, via Le Tappani, via Le Arata piazza Nostra Signora dell'Orto, Largo Giannini, via Del Pino Corso Garibaldi, via Nino Bixio, via Trieste, via San Francesco Corso Dante, piazza Cavour e piazza Roma Nelle stesse vie dalle 9 fino al termine della manifestazione sarà interrotta la circolazione veicolare Restiamo nello sport il Rapallo Palanuote è pronto a iniziare ufficialmente la nuova stagione lo farà nel fine settimana con la palla nuoto in rosa impegnata nella prima fase di Coppa Italia due i concentramenti le giallo-blu sono inserite nel girone di Padova insieme alla padrona di casa e campionesse d'Italia in carica del plebiscito Bogliasco bene Calli NC Milano e CSS Verona passano le prime tre classificate di ogni girone che andranno a contendersi il trofeo alla Final Six in programma dal 4 al 6 gennaio del 2018 per rapallo obiettivo e centrale la qualificazione ma anche testare le condizioni di una rosa rinnovata e rinforzata che quest'anno ha grandi ambizioni su più fronti e ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani Appuntamenti in agenda per venerdì 5 ottobre alle 9.30 nella sede della Croce Rossa di Ceccagna si terrà la prima giornata di simulazione dell'attività tecnica post-sisma dei geometri dalle 16 alle 19 nell'antico castello sul mare rapallo sarà visitabile la mostra collettiva di pittura allestita dal gruppo Prisma 177 in occasione del Centenario della Grande Guerra nell'ambito del Sibelius Festival alle 17 nella sala spazio aperto di Santa Margherita Ligure la studiosa Paola De Ferrari terrà la conferenza in Molfino collezioni e dispersioni fra 700 e 800 alle 18.30 nella sala congressi Plinio dell'Hotel Europa a Rapallo ci sarà la conferenza Il futuro della sanità nel Tiguglio la centralità del paziente e infine concetto della pianista Silvia Zocirillo alle 21 nell'oratorio Sant'Erasmo di Sori l'evento è organizzato dal conservatorio Nicolò Paganini di Genova Con l'agenda termina il giornale prossimo appuntamento alle 12.45 di domani vi ringrazio per la vostra cortina di attenzione e vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente vi auguro una buona serata arrivederci grazie